prodotti tipici di eccellenza della provincia di torino andiamo insieme a peccetto per una ciliegia da record a peccetto la prima domenica di giugno si è svolta la festa delle ciliegie nelle vie centrali del paese delle ciliegie in bella mostra i migliori cerasicoltori della zona tra le ciliegie c'erano anche le bacche simili a quella che lo scorso anno segnato il record di ciliegia più pesante al mondo entrando tra i primati del guinness world record la ciliegie del record appartiene alla varietà carmen con un peso di 33 grammi oltre ad essere grandi le ciliegie del record sono anche buone queste ciliegie sono un orgoglio per tutta peccetto ecco la nostra intervista ad alberto rosso cerasicoltore dell'azienda in cui è stata coltivata la ciliegia gigante del record certificato lo scorso anno questa ciliegia è della varietà primegiante è una ciliegia che raccogliamo in questo periodo è una ciliegia molto grande e simile a quelle che hanno vinto lo scorso anno il guinness world record per la ciliegia più grande al mondo quella varietà è una varietà che arriverà tra una quindicina di giorni e questo record è un record che abbiamo cercato da qualche anno perché comunque vedevamo che avevamo delle ciliegie tutti gli anni che erano comunque adeguate per poter concorrere e sono ciliegie molto buone naturalmente grandi e quella che ha vinto il record raggiunge i 33 grammi e diciamo che è un record che ci inorgoglisce inorgoglisce molto e credo che possa essere d'orgoglio per tutto il paese di peccetto turinese grazie